Quando le promesse degli sviluppatori incontrarono Kickstarter, anni e anni orsono, si venne a creare una copiata quanto meno pericolosa, con i giocatori che avrebbero potuto finanziare direttamente progetti pieni di sogni e speranze, che però sarebbero potuti crollare in un nulla di fatto in qualsiasi momento. La storia la conosciamo tutti, e nel corso di questi anni ne abbiamo visti a centinaia di promettenti progetti, infine rivelatisi delle piccole perle o dei colossali disastri, una condizione che mi ha portato a guardare sempre questo mondo con una certa diffidenza. Kingdom Come Deliverance rappresentò però uno strappo alla regola, un progetto così ricco di potenziale che non poteva fallire, non se lo meritava. L'opera di Warrior Studios è così cresciuta negli anni, fin quando la stessa Deep Silver non ha infine deciso di comprarsi tutta la baracca e ampliare ancora di più l'intero progetto. Poi, dopo quattro lunghi anni d'attesa, arriva finalmente il grande momento e Kingdom Come Deliverance esce nei negozi, tra scroscianti applausi di gioia e furiose grida isteriche. Nella frenesia generale, anch'io mi appresto ad aprire le gambe del portafogli per svuotarlo di tutto il suo peso, se non fosse che... Salve Kingdom Game, salve. Per caso avete una copia di Kingdom Come Deliverance? Sì, certo. Non è che potrei averla? Nessun problema. Ti ho inviato la copia. Kingdom Come Deliverance si configura come titolo atipico e chiaramente diverso dal solito, ciò è doveroso premetterlo fin dalle primissime battute di questo video. Con una mossa similare a quella che già avevamo modo di vedere con From Software e il suo Demon's Souls, i ragazzi di War of Studios hanno ben deciso di sviluppare un GDR che andando completamente in controtendenza rispetto al mercato, non solo se ne frega altamente di prenderti per mano guidandoti passo dopo passo, ma di tanto in tanto si diverte anche a darti qualche bel calcio in culo. Ambientato nella Bohemia medievale del 1400, Kingdom Come vi vedrà impersonare i panni di un semplice otto di paese, figlio del fabbro che sogna grandi conquiste nella vita desiderando nel mentre i culi delle gentil donzelle di tutto il villaggio. Questa è la classica fase tutorial dell'avventura, si capisce un po' come si gioca, si imparano determinate mossi e meccaniche di base e si studiano alcuni dei personaggi con cui avremo a che fare. Nulla di strano insomma, se non fosse che molte fasi finali di titoli ampliamente conosciuti da tutti voi sono indubbiamente più semplici da completare rispetto a questo tutorial. Poi, come da tradizione per ogni GDR che si rispetti, ecco che tutto va improvvisamente a puttane, di fatto facendo ufficialmente prendere il via al gioco vero e proprio e all'avventura che ci porterà con l'affrontare inenarrabili pericoli. Sono passate appena 3 ore in game e ho già capito 3 cose fondamentali. 1. Questo gioco saprà farsi amare. 2. Questo gioco saprà farsi odiare. 3. Esiste un trofeo ottenibile rimanendo vergine fino alla fine dell'avventura e noi non lo otterremo mai. Warrow Studios ha puntato tutto sul creare un'opera che fosse il quanto più realistica possibile e conseguentemente anche il più complessa possibile. Fin dai primi e secondi in gioco si viene letteralmente bombardato in faccia da menu, statistiche, alberi delle abilità e chi più ne ha più ne metta. Il titolo vi impone di vivere una vita, dovrete mangiare, dormire, lavarvi, cercare abiti di buona fattura, riparare quelli che si rovineranno e tutto ciò andrà a influire sui rapporti che avrete con gli abitanti del mondo di gioco. Detta in poche parole, nel caso in cui foste vestiti come vagabondi e non aspettatevi certo grandi attenzioni da parte della nobiltà, siate dei ladroncoli e le guardie vi terranno maggiormente d'occhio, comportandovi da cavalieri, il mondo di gioco e i suoi abitanti vi guarderanno con maggior rispetto e molto altro ancora. Uno degli aspetti più riusciti nell'epopea di Warrior Studios è proprio questo, l'enorme libertà lasciata in mano al giocatore, che sostanzialmente potrà fare il cazzo che gli pare. Giocando si può proprio gustare quella squisita sensazione di storia che si articola secondo le tue scelte, e quanta godura amici miei. La possibilità di potersi gestire ogni missione nella maniera che più ritenevo opportuna, si è rivelata una peculiarità che mi ha conquistato fin dal primo istante. Alle volte ho adottato un approccio estremamente violento, in altri casi ho percorso la via della diplomazia, e seppur la storia non cambia nei fatti, il mondo di gioco tiene conto delle vostre azioni. Proprio questo senso di libertà e realismo raggiunge poi la sua massima espressione nello sviluppo del nostro personaggio. Per farvi capire, a inizio gioco Henry, il protagonista, non saprà fare una beniamata minchia, in quanto popolano di bassa caratura non saprà neanche leggere, e per poter migliorare le sue abilità dovrete semplicemente continuare a tentare sbagliare, imparando nel tempo. Vi assicuro che la sensazione che si prova quando finalmente si riesce in qualcosa che per ore avevate ritenuto impossibile non ha prezzo. Un esempio? L'arco. Le prime volte che si usa arco e freccia la situazione è disastrosa, colpire qualcosa è praticamente impossibile e soprattutto frustrante. Il primo pensiero che viene in mente non può essere altri che... Sì, però che cazzo, stacco di merda non serve a una minchia! Poi però decidi di ritentare. E poi ancora. E poi ancora. E poi ancora, fin quando finalmente non becchi quel cazzo di coniglio da 200 metri di distanza e ti senti come se fossi il Robin Hood. Ma perché sei riuscito a colpire quel bastardo? Da una parte sì, a forza di usare l'arco il vostro personaggio è migliorato e ha sbloccato diverse nuove abilità. Ma dall'altro lato anche voi siete migliorati. A forza di usarlo ho capito dove mirare per direzionare la freccia e soprattutto quando andasse effettivamente scoccata o letteralmente imparato a usare l'arco. Eccola là, questo è il bello di Kingdom Come, crescere e imparare, l'incredibile soddisfazione che si prova quando si riesce finalmente a fare un qualcosa che per ore c'era sembrato impossibile, perseverare e infine migliorare. Va detto però che proprio questo aspetto del gioco è croce delizia dell'intera esperienza, perché se da una parte io ho adorato tale feature, non tutti la apprezzeranno allo stesso modo. Il fatto che l'avventura parte in maniera decisamente lenta e sia volutamente scomoda a tratti quasi legnose in quelle che sono le prime 10 ore abbondanti di gameplay sicuramente scoraggerà a tutti coloro i quali non avranno la pazienza di mettersi d'impegno e lavorare, faticare per padroneggiare l'opera. A queste persone consiglio vivamente di non acquistare il titolo, semplicemente non fa per voi, o quantomeno evitate di comprarlo per poi venirmi a scrivere. Ciao Freccia, ti scrivo per chiederti se hai provato Kingdom Come Deliverance. Io ci ho giocato per alcune ore, ma poi l'ho rapidamente abbandonato. Onestamente speravo fosse più uno Skyrim medievale rispetto a quello che effettivamente è. Testa di minchia! Merita poi una menzione tutta sua il combat system, indubbiamente l'elemento ludico che ha fatto più discutere la community. Partendo da un sistema che ricorda neanche troppo vagamente una fusione tra For Honor e Shiverly, ogni scontro di Kingdom Come si caratterizzerà per l'essere estremamente lento e teso. Dovrete scegliere dove parare e dove colpire, attendere che il nemico scopra la guardia e poi infilzarlo lì dove farà più male. Il tutto con la consapevolezza che molto dipenderà anche dall'equipaggiamento proprio e avversario, per cui combattere contro un contadino porterà scontri molto diversi rispetto a quelli che potrebbero presentarvisi affrontando un soldato armato di tutto punto. Personalmente il combat system del gioco mi è davvero piaciuto, in particolar modo negli scontri 1 vs 1, lì dove ogni singola vittoria è una gran bella soddisfazione. Peccato solo che quando appaiono più nemici da dover affrontare contemporaneamente, la situazione si faccia decisamente complicata per colpa di una telecamera che fatica parecchio a gestire lo scontro. Cavoli freccia, da come ne parli sembra un titolo praticamente imperdibile. A questo punto è giunto il momento che anch'io mi lanci all'avventura! E no... Come no? Ebbene sì, non è tutto oro quel che luccica. Kingdom Come ha delle mancanze, due gravi problematiche che l'opera di Warlord Studios si porta dietro per un motivo comune anche piuttosto intuibile. Budget. Kingdom Come Deliverance nasce infatti come progetto indie, finanziato inizialmente su Kickstarter e poi ampliato grazie all'arrivo di Deep Silver, ma sempre con un budget risicato, 37 milioni di dollari, contando anche il marketing. Si stimano circa 10 milioni investiti per lo sviluppo effettivo, che possono sembrare tanti e per carità lo sono, ma per un'opera di questa portata è davvero poco. Un budget ristretto cosa comporta quindi? Comporta limiti, limiti che si possono vedere facilmente all'interno di Kingdom Come. Se da una parte il gioco vorrebbe puntare moltissimo sul realismo e in numerosi casi ci riesce, restituendo una gran bella esperienza, dall'altro lato serve veramente poco per vederne tutti i paletti resi se necessari in sede di sviluppo. Colpire un nemico in testa con una freccia non porterà alla morte, eseguire l'assassinio di un innocente nascosto dalle tenebre vi renderà immediatamente ricercato in tutta la boemia, migliorare alcune statistiche specifiche semplificherà notevolmente il titolo e molto altro ancora. Mancano tante rifiniture, se così vogliamo dire, tutte quelle piccole attenzioni aggiuntive di cui i titoli AAA possono spesso vantare. Ad aggiungersi a questo arriva poi la seconda e ancora più grave problematica del titolo, una caratteristica ludica che difficilmente definisco importante per la valutazione di un videogioco. Esatto, proprio lei. La grafica. Ora chiariamoci, se già mi conoscete sicuramente lo saprete, in caso contrario sappiate che per me il comparto tecnico di un titolo non ha mai rappresentato un aspetto predominante per poterlo apprezzare, e normalmente tutti i discorsi al riguardo si risolvono sempre in... Freccia, ma com'è possibile che ti sia piaciuto nera automata? Ma hai visto che grafica orrenda che ha? Ma baffanculo. Eppure con Kingdom Come ho dovuto fare un'eccezione, poiché la situazione è semplicemente inaccettabile. Nel complesso, quando si guarda la scena generale, il gioco fa la sua sporca figura e gli scenari sanno farsi apprezzare, ma poi basta guardare un po' più attentamente per vedere come le crepe siano ampie quanto il Grand Canyon. Il gioco inizia nel migliore dei modi, un caricamento iniziale, ed ecco che poi potreste potenzialmente girarvi tutta la mappa, interni degli edifici complesi, senza dover più caricare alcunché. Tutto bello, tutto fantastico, peccato solo che per parlare con ogni singolo NPC, compresi quelli inutili che non avranno nulla di importante da dirvi, dovrete prima sorbirvi un caricamento. Pochi secondi, per carità, ma dopo migliaia di secondi a guardare uno schermo nero, vi assicuro che i miei coglioni avevano ormai raggiunto il pavimento. Peggio ancora, il titolo soffre di un gravissimo problema nel caricamento in tempo reale delle texture, che vi perseguiterà per tutta l'avventura, in particolar modo quando andrete a cavallo. Nel caso in cui doveste decidere di salire in groppa al vostro destriero, sarete infatti così veloci che il gioco stesso non riuscirà a caricare in tempo le texture della nuova porzione di mappa in cui siete arrivati. Magari giungete in città e innanzi a voi si presenterà l'inferno sceso in terra. Edifici senza texture, NPC decapitati, strade scomparsi sotto cui si staglia il nulla, un enorme quadro di Picasso in movimento. Ci ho detto e quindi è una fortuna poter affermare che il titolo sia ottimizzato magnificamente su PC. Il lavoro svolto in tal senso è stato semplicemente vero e no, non è vero, è stato un disastro anche lì. Ora per carità, il mio PC non monta 4080 Titan, ma con una GTX 970 riesco ancora tranquillamente a giocare tutto quello che giunge sul mercato senza problemi. Mentre per Kingdom Come ho dovuto sudare, giocando parecchio con le impostazioni, prima di avere una situazione quantomeno accettabile. Vedi Freccia, questa è colpa tua perché te lo sei voluto giocare su PC. Bastava che te lo facevi su console e non ci sarebbe stato alcun problema. Le versioni PlayStation 4 e Xbox One di Kingdom Come all'uscita erano semplicemente disastrose. Ironicamente avrete bisogno di una PS4 Pro o una One X per poter giocare quasi senza problemi, il che è un qualcosa di imbarazzante, non ci sono santi che tengano. E poi, come ciliegina sulla torta, bug e glitch. Decine, centinaia, migliaia di errori, alcuni dei quali vi faranno fare solo una grassa risata, altri che vi uccideranno nell'anima. Nel mio caso specifico, di bug e gravi ne ho incontrati solo due, uno in cui sono letteralmente sprofondato nel terreno e un altro in cui invece sono stato lanciato in cielo per poi precipitare e morire miseramente. Oltre a questi però, il pubblico ne ha riscontrati molti altri. Quest bloccate, oggetti necessari per avanzare, scomparso dall'inventario, NPC che non ti parlano, mandando tutto in vacca e molto altro ancora. Problemi che ovviamente ti costringono a ricaricare dall'ultimo salvataggio. Ed è qui che nascono i veri cazzi. Per darvi un'idea, quando giocai The Witcher 3 all'uscita, sarò incappato in almeno una buona trentina di crash che mi imposero di riavviare la partita. Solo che in quel caso specifico, non avverti il problema come esageratamente pesante. E questo perché, potendo salvare quando minchia volevo io, semplicemente riprendevo il gioco esattamente da dove l'avevo interrotto. Ma in un'opera come Kingdom Come Deliverance, dove il salvataggio non è libero, ma richiede specificazioni, c'è il serio rischio che intere mezz'ora di gioco vadano completamente sprecate per motivi che non sono colpa dell'utente. Il sistema di salvataggio di Kingdom Come a me onestamente piace, ti dà un maggior senso di medesimazione e funziona perfettamente per evitare che il fare una scelta sbagliata nel gioco perda di importanza. Perché se tu puoi salvare quando vuoi, prendi una decisione in game, vedi che così tutto va a puttane e invece che affrontare il nuovo casino appena creatosi, ricarichi e ti comporti diversamente. Affinché il sistema sia accettabile, però, non possono esserci questi problemi poiché distruggono completamente l'esperienza. Doveva esserci a monte un lavoro di pulizia e limatura generale che purtroppo non vi è stata. Ed è proprio in ragione di questo che io voglio consigliare caldamente a ognuno di voi di non comprare il titolo. Per ora. Kingdom Come Deliverance è una grande esperienza che nonostante i suoi problemi ha saputo intrattenermi e soprattutto divertirmi. Non per niente lo recensivo su Kingdom Game dandogli un ottimo voto. Eppure, tutte queste problematiche a livello tecnico non sono accettabili. È giusto e sacrosanto che l'utente paghi per un prodotto pulito e rifinito. Cosa che Kingdom Game allo stato attuale non è ma che potrebbe essere in futuro. Al momento, quel che abbiamo tra le mani altri non è che un diamante grezzo da migliorare a suon di patch aggiornamenti che stanno già uscendo in gran quantità. Non per niente sono abbastanza sicuro che una buona parte dei problemi da me riscontrati durante la mia partita siano oramai già stati risolti e almeno che non abbiate attesso questo titolo con la bava alla bocca quello che potrete comprare tra qualche mese sarà un'opera indubbiamente più rifinita e soprattutto meno costosa. Una doppia vittoria per tutti voi. Per chiudere in bellezza il tutto vorrei infine citarvi anche un altro aspetto del gioco potenzialmente capace di rendere il titolo semplicemente indimenticabile ma al contempo anche in grado di distruggerlo poiché da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Warlord Studios ha fin da subito dichiarato che i modder avrebbero avuto piena libertà di fare quel che gli pareva una mossa a cui io rispondo con un sincero bravi ottima decisione perché una community di modder preparata e in gamba può letteralmente lanciare il vostro titolo nell'Olimpo videoludico senza che voi dobbiate muovere neanche un dito. Voglio dire pensate ai Fallout di Bethesda con e senza le mod che potete trovare in rete e sono giochi completamente diversi. I modder veri quelli che sanno cosa stanno facendo possono creare interi mondi nuove storie, personaggi, ambientazioni, meccaniche infinite nuove idee capaci di tenere in vita un titolo per anni e anni. Per questo sono curiosissimo di vedere cosa ci riserverà il futuro perché nonostante io abbia finito il gioco tra un annetto potrei riprenderlo in mano e ritrovarmi innanzi a qualcosa di totalmente nuovo. Ma quindi detto tutto questo qual è il pericolo del modding? Vi rispondo con un'altra domanda di tutte le mod che sono già uscite per Kingdom Come Deliverance sapete quali sono state quelle più scaricate? Quella per semplificare lo scassinamento quella per semplificare le rapine quella che rende immediatamente visibile tutta la mappa di gioco quella che aggiunge un mirino per arca e frema in nome di D il denaro infinito per i mercanti diminuzione dei costi di tutti gli oggetti possibilità di salvare quando si preferisce sono solo mod pensate per semplificare il gioco. A tutte le persone che hanno scaricato queste mod io vorrei onestamente chiedere dal profondo del mio cuore ma per che cazzo l'avete comprato Kingdom Come a sto punto facevate veramente prima comprarvi Skyrim? Voi state letteralmente uccidendo il titolo lo state snaturando ne state mandando a fanculo l'intera esperienza e poi cosa leggo? Che il gioco non è appagante come si dice in giro e grazie al cazzo tutto l'appagamento del progredire nell'avventura l'avete buttato nel cesso il peggio però è che questa situazione sta influenzando anche chi il gioco non lo vorrebbe diverso da come attualmente in che modo? Viste le tante lamentele mosse da un pubblico che evidentemente non ha giocato al titolo per più di due orette scarse uno degli ultimi aggiornamenti rilasciati dal team ha aggiunto il salvataggio libero e già si parla di altre patch per semplificare lo scassinamento. se da una parte non posso che prendermela con gli sviluppatori che trattano la loro creatura come se fosse l'ultimo delle puttane da trasformare al minimo di senso dall'altro lato ci tengo a mandare personalmente a fare in culo tutti quei giocatori che hanno deciso di comprare Kingdom Come Deliverance al day one a scatola chiusa senza informarsi minimamente solo per poi andare a lamentarsene poiché non era il gioco che si aspettavano. Ma scusa Freccia se io compro il gioco e non mi piace avrò pure il diritto di lamentarmene. Ma assolutamente nessuno dice il contrario il gioco presenta evidenti problemi che ad altri potrebbero essere pesati molto più di quanto non sia stato con me ma lamentarsi poiché Kingdom Come non è semplice immediato come Skyrim lamentarsi e svalutare un titolo solo e unicamente poiché punto offrire un'esperienza più complessa e difficile da padroneggiare rispetto ad altre produzioni a cui si è abituati vuol dire solo essere scemi. Warrow Studios non doveva cambiare il sistema di salvataggio ma doveva lavorare su bug e glitch per fare in modo che tale sistema non ne risentisse. Questo non solo avrebbe significato avere il rispetto della propria creatura ma anche soprattutto esser consapevoli dei problemi che la affliggono e sapere cosa sia necessario fare per migliorarla. se davvero basta il primo stronzo che arriva e vi dice di aver fatto una cagata per cambiare tutta la struttura di gioco allora davvero non fatico a credere che... salve oh salve desidera? lei ha sviluppato kingdom com vero? si esatto sono io ma lei come è entrata in casa mia? oh perfetto allora guardi ho giusto giusto pronti dei consigli da proporle oh ma certo mi dica pure innanzitutto credo che il vostro titolo potrebbe giovare dell'introduzione di Chuck Norris come personaggio giocabile ma come Chuck Norris guardi che il gioco è ambientato nella bohemia del 1400 e perché scusi lei era vivo nel 1400 chi vi dice che Chuck Norris non fosse già vivo a quei tempi? eeeh vabbè dai ok mettiamoci Chuck Norris lo spiegheremo con l'introduzione di qualche questo secondario perfetto e visto che ci siamo credo che dovreste inserire anche dei draghi dei draghi ma come dei draghi guardi che il nostro vuole essere un titolo storicamente accurato oh ma a me i draghi piacciono e dai per favore sono molto draghetti che ti costa e dai e dai ti prego ti prego ti prego per favore ti prego e va bene e va bene ho capito ci metteremo pure sti cristo di draghi basta che la smette di piagne va bene eccoli qua i draghi è felice ora? oh perfetto perfetto inoltre diciamocelo il sistema di combattimento del vostro titolo è orribile ma so via nel 2018 ma chi è che vuole giocare con spada e arco? poteste inserire qualche m4 o due o tre fucile a pompa un bel bazooka siete partiti con un'idea siete riusciti a svilupparla con molto lavoro e fatica e ora la state distruggendo solo poiché qualcuno se ne lamenta io ve ne prego io vi scongiuro non ascoltate il pubblico non ascoltate la massa poiché è proprio la massa non avere idea di quello che vuole il giorno prima vi dice X quello dopo vi chiede Y e quello dopo ancora vi ordina di tornare ad X con Kingdom Come Deliverance avete sviluppato una grande opera ricca di carisma e dal grande potenziale che necessita sì di tanti limature e miglioramenti ma che deve comunque rimanere sui suoi passi e seguire la sua strada sicuramente sarà una strada che non vi porterà a conquistare la massa ma in compenso otterrete una nutrita nicchia fedele soddisfatta ma soprattutto ben felici di seguire i vostri futuri progetti perché ricordate che è sempre meglio avere un pubblico ristretto ma che vi rispetta piuttosto che una massa enorme che vi detesta è stato un pubblico Grazie a tutti.